Demascolinizzazione. Ora, questo è un concetto fondamentale e in questo video voglio proprio condividertelo, perché penso che sia alla base di ogni rottura mai vista e se solitamente non mi espongo nel generalizzare, questa volta azzarderò un po' di più. Intanto se non mi conosci io sono Teo e aiuto gli uomini come te nel loro difficile percorso di riconquista. Se sei interessato a questi contenuti e vuoi rimanere aggiornato, ti invito ad iscriverti al canale, attivare le notifiche e se hai intenzione di entrare in contatto con me, guarda giù in descrizione. Demascolinizzazione. Ora, partiamo da molto lontano. Che cosa accade? Accade che all'inizio della relazione tu conosci lei e inizialmente tu sei spavaldo, sei impavido, non te ne frega quasi un cazzo, anzi la tratti con troppa leggerezza, con superficialità, perché per te quella persona non ha peso, non ha peso e di conseguenza lo possiamo tranquillamente trascurare, anzi meno attenzioni do meglio è. Dall'altra parte la donna è particolarmente presa, particolarmente come dire, sedotta da questo uomo, da questo maschio, da questo esemplare portatore sano di pisello, che cosa fa? Non si abbandona, non cede, non è come tutti gli altri maschi che lei conosce, anzi è diverso perché questo maschio in particolare, cioè tu, non ti fai corrompere così facilmente, anzi per lei rappresenti una sfida, rappresenti un'incognita, rappresenti un qualcosa che normalmente non fa parte del suo quotidiano, non sei bisognoso, lagnoso, smielato e le dici ciao, avrei, sai, avrei, mi piacerebbe se tu uscissi con me a prendere un caffè, ti va? Ok, cioè non arrivi, no, invece sei, senti, ti concedo il lusso di prenderci un caffè, dai, offri tu, sei quel tipo di uomo, sei quel tipo di uomo con un'energia maschile forte, con un'energia anche magari dominante, che non significa prevaricare sull'altra persona, ma significa non farti influenzare, quindi tu rimani concreto, centrato nelle cose. E quando tu cedi, quando comincia a esserci una relazione, quando cominciano le cose a diventare più normali, più tranquille, solitamente l'uomo che cosa fa? Appende i testicoli al chiodo, quindi si tranquillizza, comincia a lasciar perdere un po' tutto quello che è la sfrontatezza, e piano piano i ruoli si invertono. Quindi comincia a esserci una demascolinizzazione, comincia a esserci un impigrimento dell'essere maschile, che una volta era dominante, conquistatore, spavaldo e impavido, poi diventa un cucciolo tenero da domesticare, che posso tenere lì bravo con una birra e con 22 tizi che giocano a pallone, ti metto là, io donna, ti piazzo sul divano, ti do una Heineken in mano, ti metto Sky Sport qualcosa, che ti metto la tua partita del cuore a giocare, e te sei tranquillo, te sei tranquillo, sereno e beato. E che cosa accade? Accade che l'uomo si abita, perché è bello, è bello vivere così, relax totale, non c'è bisogno di pensare a un cazzo, finalmente, è bello, perché è insolitamente bello. Qual è il problema? Il problema è che alla lunga questo è il tipo di atteggiamento che porta inevitabilmente a una rottura, perché la donna non si sente più apprezzata, non si sente più sedotta, non sente più le stesse emozioni che provava una volta, ma quante volte i miei clienti mi hanno detto sta frase, sai Teo, lei dice che non prova più quello che provava una volta, è grazie al piffero, perché non ci sono più quei presupposti attitudinali da parte tua che alimentano quelle emozioni. Ed è proprio da qua che bisogna partire, da quelle emozioni, che cosa le alimentava. Bene, vuoi riconquistare la tua cazzo di ex? Fai mente locale e comincia ad andare indietro nel tempo e capire quali sono state quelle caratteristiche, quelle attitudini che l'hanno conquistata in prima battuta. Era il bisogno? Erano i messaggi chilometrici dove la imploravi di uscire che l'hanno sedotta? Probabilmente no. Probabilmente hai fatto qualche gesto galante, certo, ma l'hai fatto da un punto di vista, da una prospettiva totalmente diversa. Da una prospettiva dove stavi bene, eri tranquillo, ricentrato, appunto, e avevi questa energia mascolina forte e imperturbabile. Mentre, al contrario, magari in questo momento, ogni soffio di vento ti fa tremare, perché sei come la mia gatta quando l'ho portata a casa, che era lì, che non sapeva dove si trovava, e quindi ogni spostamento spostava una sedia, lei si spaventava, si irrigidiva perché era un suono che non conosceva. Allo stesso tempo, tu in questo momento non stai conoscendo l'ecosistema da separati, e di conseguenza sei un po' impaurito. Lo capisco. Il processo di demascolinizazione ti ha portato un po' a perdere tutte quelle capacità da conquistatore, da imperatore, che chiede una volta, tant'è che l'energia sessuale maschile ha guidato alle conquiste, ha guidato all'arte, alle guerre anche, ci mancherebbe, al progresso, al creare cose, a costruire, a ingegnarsi costantemente. Cioè, non è l'amore che ha mosso l'universo, ma è l'energia sessuale, quella che parte dalla pancia, adesso faccio, quella sana aggressività. Bene, in questo caso, se tu ti ritrovi un po' in questo processo di demascolinizazione, dove nel tempo hai perso queste capacità, queste tue sensazioni, queste emozioni che ti hanno guidato per tanto, bene, cerca un attimo di focalizzarti di nuovo su quello che è importante, su quello che puoi effettivamente fare in questo momento per riappropriarti di quello stato, perché quello è lo stato madre che ti permette di riottenere uno stato intanto tuo, personale, ma ti permette anche di riconquistare l'altra persona, perché se tu non accedi più a quelle caratteristiche, a quelle capacità, è tutto un cazzo. Se metti addosso una maschera che dura poco, perché stai fingendo quell'attitudine, ma non ce l'hai per davvero, probabilmente lei ti manderà a fare in culo di nuovo tempo tecnico che ti sgama. Quindi, amico mio, se devi creare un qualcosa, riappropriati del tuo essere uomo, non andare in giro a far la fighetta, che tanto la fighetta non riuscirai mai a farla per davvero. Se sei un portatore sano di pisello, devi riappropriarti del tuo essere uomo, ok? Ora, se ti interessa questo argomento, ti lascio anche a questo video dedicato alla riabilitazione emotiva, quindi vai a vederlo, vai a consultarlo e noi ci vediamo presto e mi raccomando non fare stronzate!